prima di cominciare a fare questo lavoro cosa avrei voluto che mi dicessero sostanzialmente che i grandi tempi del cinema d'arte erano in chiusura che i grandi autori non erano replicabili che non mi sarei trasformato in Billy Wilder e che ogni epoca dava una centralità al cinema diverso e che l'epoca verso la quale andavamo toglieva centralità alla sala cinematografica del film come forma d'arte e che i tempi del divismo, i tempi in cui i grandi attori facevano la differenza perché c'era un'enorme scelta di star internazionali anche in Italia era finito mi avessero detto guarda vai verso un periodo di ricostruzione, di ridefinizione di questo lavoro forse avrei fatto un altro tipo di pensiero, avrei sicuramente continuato a farlo questo lavoro ma avrei guardato più verso il futuro che verso il passato e il fatto che si stesse chiudendo una grande epoca, ecco questo io non l'avevo capito e non me l'aveva detto nessuno quando giri un film si è totalmente totalizzato da quello che stai facendo si è totalmente preso in ogni minuto del giorno e della notte che almeno a me capita di passare davanti a una vetrina, davanti a un ferramenta e penso quando è che potrò ricominciare ad andare alla ferramenta quando è che potrò ritornare alla vita normale così passano i mesi, passano le settimane e tu sei sempre più distaccato della vita che ti manca pazzamente cioè ti sembra che il tuo lavoro ti sta strappando via tutte le cose più importanti che hai e stai soffrendo poi smettiti finalmente di lavorare e ti senti un disoccupato e quelle vetrine perdono di interesse e quel desiderio che avevi te lo sei dimenticato quindi è un lavoro che non ti fa essere né pienamente felice mentre lo fai né pienamente felice il giorno in cui l'hai esaurito è un lavoro che ti tiene continuamente in uno stato di squilibrio e questo mi dispiace e non te lo dice nessuno Qual è il modo migliore per imparare a fare questo lavoro? beh io vi direi non imparatelo nel senso che ci sono tantissime possibilità di fallire e di non arrivare dove avreste voluto sappiate che la maggior parte di noi è ossessionato da Fellini Fellini era ossessionato da Picasso Picasso era ossessionato da Velázquez e Velázquez di notte sognava Fidia quindi non pensate che questo lavoro necessariamente vi renderà felici se poi avete proprio veramente deciso di farlo io vi consiglierei di vivere intensamente e di diventare ossessivamente intenditore di qualcosa questo qualcosa possono essere le relazioni umane, possono essere i film degli altri possono essere perversioni di qualsiasi tipo ecco essere ossessionato da un qualche tipo di idea, ideologia che sia politica, che sia umana, esistenziale è qualcosa che vi potrà trovare, vi potrà dare un'originalità, vi potrà rendere diversi dagli altri questa è la cosa più importante secondo me quindi passate del tempo a diventare diversi dagli altri il lavoro si impara con 10 tutorial su YouTube e poco altro poi ci sono delle ottime scuole di cinema, il centro sperimentale in Italia è la migliore c'è la possibilità di fare sul set da assistenti, da schiavi, da quello che volete voi anche potete entrare attraverso la recitazione, potete essere attori, diventare registi però direi che la formazione principale è quella che dovete fare quando ancora non lavorate cioè diventare persone speciali e persone speciali fanno film diversi dagli altri grazie grazie grazie